ciao a tutti bentornati sul reparto corse tv in tanti video abbiamo parlato di ammortizzatori di molle sportive di sospensione in generale oggi vorrei presentarvi le nostre molle le reparto corse e sono in commercio già da tre anni ci sono parecchie recensioni e tutte positive quindi potete informarvi sul prodotto vedendo il nostro sito quindi www.repartocorse.it o magari leggendo le recensioni che tanti appassionati hanno lasciato su questa molla molla di cui siamo molto molto soddisfatti per chi non dovesse conoscerla e magari mi volesse chiedere ma come sono queste molle repartocorse e questo video ve lo spiega quello che c'è da capire fondamentalmente ve la faccio vedere quello che c'è da capire fondamentalmente rispetto ad altri modelli di molle presenti sul mercato è che noi le abbiamo volute progettate e infine ottenute esattamente perché fossero adatte all'utilizzo sulle nostre strade sono delle molle di qualità eccezionale come tutte quelle che noi proponiamo sono piegate a freddo il materiale utilizzato è il migliore possibile quindi non cedono nel tempo il ribassamento che noi proponiamo è quello che poi effettivamente si ottiene però qual è la caratteristica principale sono molle il più possibile vicine come comfort e comodità a quelle di serie quindi noi cerchiamo di far ottenere un ribassamento e tutti i benefici che questo comporta però senza perdere eccessivo comfort ci sono delle ottime ottime molle sul mercato che però per le nostre strade italiane non propriamente perfette risultano un pochettino dure ce ne sono alcune durissime ce ne sono altre parecchio dure quindi magari bisogna scegliere questo tipo di molle consapevolmente sapendo che si andrà a perdere un po di comfort nel nostro caso ci siamo adoperati affinché la perdita di comfort fosse minima quindi si tratta di molle progettate per l'utilizzo quotidiano dell'auto su strade italiane quindi possiamo rendere l'auto più sportiva migliorando la sospensione però senza perdere eccessivo comfort e senza perdere soprattutto il piacere di usarla quotidianamente se vi occorrono informazioni su questi prodotti o su tutti gli altri nostri prodotti che potete trovare sul nostro sito www.lepartocorse.it potete naturalmente contattarci e nel frattempo vi invito a seguirci su tutti i nostri social youtube ecco di qui instagram facebook e tik tok al prossimo video ciao ciao